Anche nella consapevolezza che ci sono tutti i giorni. La Fondazione di Comunità della città di Fano, istituita il 17 dicembre scorso, approvata con voto unanime nelle ultime sedute della precedente legislatura, ha presentato questa mattina le prossime attività di intervento sulle emergenze sociali. Le fondazioni di comunità agiscono in quello che viene chiamato il secondo welfare, che pone l'obiettivo di integrare il primo welfare, quello pubblico, non più in grado di soddisfare le crescenti esigenze delle fasce più deboli del territorio. La fondazione si propone come intermediario finanziario sociale, mettendo al centro della propria attività le donazioni da e per la collettività, con l'obiettivo di sviluppare la qualità della vita nei territori in cui operano. A seguito della raccolta fondi proprio per l'emergenza sociale post-emergenza sanitaria, noi usciremo con una sorta di bando, di avviso, in cui finanzieremo enti e associazioni del terzo settore che a loro volta normalmente supportano e aiutano categorie fragili. Questo lo faremo attraverso un processo di accreditamento, quindi il singolo ente si accrediterà in maniera sostanzialmente facile come uno degli enti che viene poi inserito in una lista e chiameremo sempre gli accreditati di questa lista per proporre ad invito di partecipare a bandi specifici. Il patrimonio della fondazione di Fano, nata dalla scia della fondazione Fano Solidale, che da 12 anni opera con interventi mirati a favore delle categorie deboli, è costituito da contributi, quote e donazioni che coinvolgono diversi soggetti, dai singoli cittadini, aziende, banche, istituti pubblici, enti privati e di terzo settore, i quali possono intervenire con singole donazioni immobili legati anche a testamenti, fondi patrimoniali oppure fondi di liquidazione destinate alle esigenze delle categorie più disagiate. Il Comune di Fano pensa ad allargare l'ottica della fondazione su più ambiti sociali del territorio. L'ottica poi adesso è quella, e la stiamo definendo proprio in questi giorni, perché è ai primi passi, di allargare le sue competenze e quindi il suo ambito anche su tutto il territorio del ATS numero 6, che va da Fano a Pergola e poi anche sull'altra vallata, magari anche quella del Metauro. Abbiamo appunto promosso una raccolta fondi, una parte di questa è stata destinata al Comune, 3.000 euro per il sostegno alimentare, per i buoni spesa, e per i quali ringraziamo appunto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.